Il 25 abbiamo davanti a noi una sfida molto importante, quella di dire no alle politiche liberiste proposte dal governo Draghi con una vecchia ricetta. Per noi l'unica soluzione è continuare a dire no ai licenziamenti senza nessuna condizione, proporre ammortizzatori sociali nuovi ed equi per tutti quanti che diano dignità ai lavoratori e un reddito minimo universale. Per far sì che questo possa succedere abbiamo bisogno di te in piazza, ti aspettiamo.